Oh, consumata la cena e gli prese il calice, di nuovo ti rese grazie e ti lo do. Chiede il calice ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, il sangue dell'amore ed eterna alleanza, mistero della fede. Giornata ideale per un esorcismo. Ti piacerebbe? Enormemente. Ma non ti scacerebbe fuori da Reagan? Ci unirebbe invece. Tu e Reagan? Tu e noi. Sei stata tu? Ah. Allora dimostra. Nel tempo. No, adesso. Nel tempo. Mirabile dico tu, non sei d'accordo. Parli in latino. Ego te absolvo. Qua nome mi chieste? Bonjour. Qua nome mi chieste? La plume de matante. Quanto tempo intendi restare dentro Reagan? Finché non marcisce, giace sottoterra con i verni. Che cos'è? Acqua santa. Rimetti la via. Prado e DVD. Brut. 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 Il opone il brovino! Sì! Come sei? Sì, madre! Non mi piacere! Non mi piacere! Non mi piacere! Non mi piacere!